Ma insomma, questi signori qui, Putin e Trump, duellanti, speriamo solo duellanti, polemicamente, hanno anche il problema di nutrire i loro governi di informazioni utili. E quindi, Marcello Foa, ci sono questi stregoni, gli stregoni della notizia, tu li definisci, un saggio che qualche anno fa era divenuto un classico, adesso lo aggiorni, lo ampli. Insomma, questi personaggi che fabbricano informazioni a favore dei governi, questi spin doctor. Sì, esatto, gli spin doctor hanno diverse funzioni, funzioni politiche, ma anche nella scena internazionale. Nel libro spiego, purtroppo, come l'informazione sia diventato uno strumento delle cosiddette guerre asimmetriche, sia sempre più importante per influenzare le nostre percezioni e influenzare le decisioni politiche. Ne abbiamo provo proprio in questi giorni. Abotteri ha dimenticato di ricordare un dettaglio per me molto importante, ovvero che Mattis, nella sua deposizione al congresso di oggi, ha dichiarato che non hanno le prove che siano state usate armi chimiche, ma bensì solo indicazioni che provengono dai media e dai social media. Allora, la questione è molto semplice, è come fa Macron a dire che ci sono le prove, come fa Mattis a dire che non ci sono, e secondo me Mattis ha ragione, e soprattutto come è possibile che sulla base di una decisione molto impulsiva, ma come quella che è stata presa da Trump nelle scorse ore, si possa mettere a repentaglio la pace mondiale, perché di questo parliamo. Così come è emblematico la questione del caso Skripal delle scorse settimane. Subito c'è stato questo episodio di questo avvelenamento, ancora una volta col gas, però sono passate ormai tre settimane, ma non c'è la prova che siano stati i russi, però nel frattempo i russi sono stati messi alla berlina, sono stati messi sotto accusa, sono state prese delle sanzioni diplomatiche, delle ritorzioni diplomatiche molto pesanti, e il problema è che ancora una volta noi media siamo purtroppo troppo facili nell'assorbire questi annunci, nel rilanciarli, nell'enfatizzarli senza mai chiederci se dietro a queste operazioni ci siano delle strumentalizzazioni mediatiche, di cui purtroppo la storia recente ci ha dato molte prove. Ecco io nel libro spiego come sia possibile orientare e purtroppo anche manipolare l'opinione pubblica in diversi contesti e senza che i giornalisti siano consapevoli di essere usati. È un problema molto molto serio per la qualità e per la credibilità della nostra democrazia. Insomma è anche abbastanza mortificante per noi, no? Renderci conto che siamo così facilmente influenzabili, manovrabili, insomma. Eh sì Maurizio, poi c'è un punto che noi dimentichiamo molto facilmente. Allora noi abbiamo denunciato più volte la guerra in Iraq, no? La guerra in Iraq è stata fatta con la famosa scena della fialetta di Colin Powell, però quello è stato solo l'esempio più clavoroso. Dietro a quello ci sono stati mesi di campagna contro l'Iraq che è stata alimentata ad arte su prove che sono risultate false. Allora questo episodio dovrebbe allertare la stampa per dire attenzione, ci prendono in giro, ci prendono in giro le istituzioni che noi siamo abituati a ritenere credibili. Poi c'è stato nel 2013, l'America è andata a un soffio da un attacco in Siria e sappiamo per i 1300 morti a Jibal, ancora una volta, le gas, le armi chimiche sono state usate. Però cos'è? Abbiamo scoperto che le armi chimiche erano state attribuite ad Assad e poi abbiamo scoperto che sono state usate dai ribelli per fare quel che tecnicamente si chiama un false flag, ovvero un attacco che tu fai contro i tuoi stessi amici, la tua stessa popolazione, affinché la colpa ricada sui tuoi nemici. Allora questo è accaduto tre anni fa, l'anno scorso è successo un altro caso clamoroso, Amnesty International, dice, sempre in Siria, c'è una fabbrica che viene usata come forno crematorio dove il regime di Assad brucia i prigionieri politici. Il Dipartimento di Stato ha dato questa notizia, per due settimane tutti i media occidentali hanno parlato di questa notizia, descrivendola come un orrore, commenti indignati, giustamente indignati perché ricorda l'olocausto e poi dopo due settimane il Dipartimento di Stato ha detto no, mi dispiace, non ci sono prove che questo sia avvenuto in quella fabbrica lì, è semplicemente una fabbrica dismessa. Allora perché noi giornalisti dimentichiamo così spesso di essere oggetto veicolo di queste false informazioni? Giovanna tu confermi che negli Stati Uniti anche c'è questo problema da parte anche dell'informazione di essere troppo permeabile rispetto a queste false informazioni, a queste fake news, a queste... Ma sai Ide, il mondo dell'informazione è un mondo vastissimo e variegato. Io credo che invece i giornalisti siano abbastanza consapevoli dei rischi adesso della falsa informazione. Il collega ha citato l'Iraq del 2003, nel Iraq del 2003 i giornalisti erano sul campo e potevano testimoniare. Oggi non ci sono giornalisti in Siria che possono testimoniare. E io credo che questo sia importante per capire come invece la presenza e il giornalista faccia la differenza e sia una garanzia di trasparenza di informazione. E insomma avete capito quanto siano interessanti i libri che anche stanotte vi proponiamo. Marcello Foa, gli stregoni della notizia, come si fabbrica informazione al servizio dei governi. E Federico Mello, il lato oscuro di Facebook, come Zuckerberg usa le debolezze umane per fare i soldi e non soltanto soldi come abbiamo visto dalla storia di Cambridge Analytica.